Ciao a tutti, sono John Stidman, direttore tecnico di AquaPurge. Oggi vi parlerò dei 5 step fondamentali per utilizzare il Barre Blitz Universal nelle vostre pressi ad iniezione. Alcuni di voi probabilmente non hanno mai utilizzato il Barre Blitz Universal. Quindi vogliamo comunicarvi quali sono i risultati a cui puntiamo. Il Barre Blitz Universal è la soluzione migliore allo smontaggio viti. Vi sembreranno degli standard elevati, ma è ciò che possiamo aspettarci dai nostri prodotti. Quanto materiale servirà? Se utilizzate il Barre Blitz Universal su una pressa pulita o se avete appena pulito la vita manualmente, avrete bisogno di un chilo per ogni 100 tonnellate. Questo vuol dire che su una pressa da 500 tonnellate avrete bisogno di 5 kg di prodotto. Se invece consideriamo una vite sporca, una vite che magari non è mai stata smontata e che lavora materiali come autoestinguenti, PVC o pigmenti, oltre al materiale elimineremo i residui carboniosi. Quindi la quantità di prodotto potrebbe essere 5 volte superiore, ma solo per il primo utilizzo. Eliminati i residui carboniosi, utilizzeremo un chilo per ogni 100 tonnellate della pressa. Passiamo all'utilizzo. Abbiamo 5 step fondamentali. 2 per spurgare con Barre Blitz Universal. 3 per rimuovere i residui di Barre Blitz Universal. Primo step. Iniziamo pulendo la vite e il cilindro. Per farlo aggiungiamo il Barre Blitz Universal, dopodiché carichiamo e spurchiamo, carichiamo e spurchiamo, finché lo spurgo non risulti bianco. Se lavorate con temperature al di sopra di 260 gradi centigradi, il colore sarà beige. Secondo step. Puliamo testa del cilindro e puntale. Quindi, impostiamo la massima contropressione, questo ci permette di mantenere la vita in avanti e continuiamo a ruotare finché lo spurgo non risulti nuovamente bianco o beige. Terzo step. In questa fase, rimuoviamo il Barre Blitz Universal. Il Barre Blitz Universal si autorimuove se manteniamo la massima contropressione con la vita in avanti. Togliamo il materiale dal punto di imbocco sotto tramoggia. Una volta fuoriuscito completamente dall'ugello, continuiamo la rotazione per ulteriori 10 secondi. Quest'ultimo è un passaggio fondamentale dell'intero processo. Quarto step. Puliamo la zona di alimentazione del cilindro. Il Barre Blitz Universal, allo stato grezzo, è una polvere grossolana. Aderisce alle superfici in metallo per pressione statica, ma non si diffonde nell'aria. Per rimuoverla, adottiamo la procedura di intermittenza. In sostanza, spingiamo la tramoggia con il prossimo materiale di produzione al di sopra del punto di imbocco. Una volta riempito, la riportiamo indietro. Mantenendo la massima contropressione, spurchiamo finché non vediamo la vite pulita. Quindi, inseriamo il materiale, torniamo indietro con la tramoggia, spurchiamo finché la vite non è pulita. Ripetiamo la procedura di intermittenza per 5 volte, per poi svuotare completamente la vite. Quinto e ultimo step. Rimuoviamo tutto il materiale dalla vite e dal cilindro. Iniziamo diminuendo la contropressione, Dopodiché, carichiamo e spurchiamo, carichiamo e spurchiamo, finché non saranno più presenti i residui di barre e blitz universal nell'ultimo spurgo. Riassumendo, abbiamo 5 step fondamentali. Caricare e spurgare finché il materiale non risulti bianco. Massima contropressione e spurgare finché non risulti nuovamente bianco. Svuotare completamente la vite continuando 10 secondi di rotazione. 5 intermittenze. Carica e spurgare finché il materiale non risulti pulito. Quanto tempo impiegherete? Non più di 10 minuti. E onestamente 10 minuti per via dello spostamento della tramoggia in avanti e indietro. Un saluto da John Stidman. Sfruttate i vantaggi che otterrete dal barre blitz universal e tenete d'occhio il canale per i prossimi video. Vi forniremo delle informazioni più approfondite e tratteremo altri argomenti. Nel frattempo, se avete bisogno di assistenza, non esitate a contattarci su www.acquapurge.com Grazie a tutti.